Ha fatto emozionare i nostri genitori, ha segnato indelebilmente i nostri giovani cuori, ci ha fatto arrabbiare da campioni in carica, ci ha fatto sperare anche contro i più forti, ci ha deluso profondamente quando stavamo tornando a crederci, ci ha resi fieri anche con una rosa non all'altezza, ci ha fatto piangere e disperare facendoci attraversare la fase più nera della storia. Quel colore, quell'azzurro, o quel verde, dipende dai momenti storici, ma quell'azzurro ci ha davvero conquistati. Anno dopo anno, partita dopo partita, gol dopo gol. E quindi ragazzi ne sono sicuro, grazie a Mancini, nel 2020 ci divertiremo, è tanto. Gli europei saranno il nostro momento, saranno il nostro ritorno, ci riscatteremo, torneremo in alto, vendicheremo quell'anno saltato al mondiale e festeggeremo alla faccia di ventura, lotteremo su ogni pallone, sconfiggeremo ogni adversario e alla fine saremo noi a triunfare. Qui lo dico e qui lo nego, vinceremo Euro 2020. Ufficiale Euro 2020, rinviato a causa Covid-19, si giocheranno nel 2021. Ma no dai, ma no. Allora ditelo, ditelo, lo fate apposta. Ciao ragazzi, come state? Bentornati su YouTube. Niente europei quest'anno, ormai ci siamo messi il cuoricino in pace. Ce ne faremo una ragione e torneremo più carichi che mai nel 2021. Sperando ovviamente che si possa tornare a vivere il calcio come una volta. Eppure, sono qui per dirvi che non è finita. Potremo vivere Euro 2020, pardon, Euro 2021, già oggi. Come? Molto, molto, molto semplice. Dal 4 giugno potrai aggiornare la tua copia di gioco PES 2020 e scaricare il datapack 7.0. Cosa c'è al suo interno? Te lo dico subito. DLC contenente Euro 2020 è pronto ad essere scaricato sulla tua console di gioco. Tutte e 55 le nazionali UEFA, rose dei giocatori e divise di gioco incluse. Modalità di gioco ufficiale UEFA Euro 2020. Ricreazioni fotorealistiche del Wembley Stadium e dello stadio di San Pietroburgo. Il pallone ufficiale di UEFA Euro 2020 sarà disponibile al lancio. I giocatori in evidenza, i matchday a tema e altri eventi in game di UEFA Euro 2020 sono ancora previsti, ma con modifiche che verranno annunciate successivamente. E mi sono dimenticato di dirti la cosa più importante. Questo DLC è completamente gratuito. Eh sì, hai capito bene. È completamente gratis. Quindi catapultati in questo istante a comprare la tua copia di PS 2020 se ancora non ne sei in possesso e scarica assolutamente e gratuitamente, ci tengo a dirlo ancora una volta, questo fantastico DLC. In questo periodo di calcio o non calcio, cosa c'è di meglio che mettersi davanti alla propria console e giocare con la nazionale? Probabilmente farlo con la più brutta maglietta che possiedi, tipo comprata il giorno stesso nella finale mondiali e bere una buona birra fresca. Ma fortunatamente possiamo fare anche questo, no? E aspettando campionato, Coppa Italia e Champions League potremmo ritrovarci campioni d'Europa alla faccia di Mancini che si è fatto solo le amichevoli. Ben ti sta, Roberto, ben ti sta. Se sei già in possesso della tua copia di PS, fiondati a scaricare questo nuovo aggiornamento. E poi preparati ad aprire le finestre e a sentire nell'aria una rumorosa ma anche familiare melodia. Po, 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 po. Da europeo itinerante a europeo giocato dentro casa è un attimo. E tu scaricherai questo DLC? Giocherai con UEFA Euro 2020 all'interno di PES?